Ciao a tutti amici amiche runner e bentornati sul canale di Run Ingegnere. Oggi andiamo a vedere un bel allenamento 5 km di lungo lento più 10 km di corso veloce fatti domenica 13 novembre andati direi alla grande. Quindi prima di saltare sul contenuto vi ricordo se vi piacciono questi contenuti di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video. Grazie, vediamo un po' questo allenamento. Allora, l'allenamento consisteva appunto in 5 km di corsa lenta, pseudo riscaldamento ma comunque in spinta e poi 10 km di corso veloce fatti a mio modo a cannone. Sono stato molto contento di questo allenamento, ottima spinta dei piedi come ho scritto e veloce fino alla fine. Alla fine il passo è venuto una media di 4.06 ma ovviamente molto differente se andiamo a vedere poi nello split andiamo un po' a vedere se ce l'abbiamo qui, lo troviamo nell'analisi del passo. Ecco qua, abbiamo fatto i primi 5 km a 4.43, proprio in assoluto controllo, senza esagerare e poi gli ultimi 10 a 3.48. Quindi molto contento, mi è piaciuto molto questo allenamento. Devo dire che se andiamo a vedere anche i chilometri, guardiamo soprattutto la parte interessante, quella dei 10 km, riusciamo a vedere come sia stato abbastanza anche costante nella velocità. Comunque non salendo mai sopra i 4 km, andiamo a vedere se vediamo i parziali. Panoramica, strano, mi fa vedere più lo split per chilometro. Proviamo a ricaricare l'attività, se magari è un errore. Ecco infatti, questo volevo vedere. Andiamo a vedere proprio gli intertempi nel dettaglio. A parte i primi 5 ovviamente sui 4.40, 4.38, 4.50, poi 3.44, 3.50, 3.45, 3.49, 3.48, 3.46, 3.41, 3.49, 3.49. Quindi sono stato molto molto soddisfatto, sicuramente in progresso. Devo dire che ho voluto spingere notevolmente, infatti se vedete dopo il primo 3.56 poi sono andato subito sui 3.44, poi per stazionarmi tra il 3.45 e il 3.49 ho ballato più o meno, quindi in quell'intorno di 4 secondi al chilometro. Era un test anche per me per vedere quanto riuscivo a fare. Sarei riuscito a fare di più? Ma forse avrei fatto uno, due chilometri in più al massimo. Quindi sicuramente ancora c'è strada da fare, ho spinto molto comunque, sensazioni ribadisco positive ma con uno sforzo notevole. Se andiamo a vedere, andiamo un attimo, la frequenza cardiaca ovviamente è stato in soglia per il 50% del tempo. Quindi sicuramente un allenamento duro, uno sforzo, quando dice duro, vero, vero assolutamente. E chiude una settimana importante, fatta con ripetute, quindi con un carico notevole. Sono anche stato contento di non sentire lo stress troppo delle gambe, ma hanno risposto bene a tutti gli stimoli della settimana. Quindi questo conclude un po' la settimana. La settimana più successiva cosa farò? Avrò un viaggio di lavoro a Londra, quindi questo destabilizzerà un po' gli allenamenti, con anche incluso una cena con colleghi. Quindi il giorno dopo sarà dura allenarsi, ma sicuramente continuiamo gli allenamenti. Ci saranno ancora la serie di ripetute su 200, 300, 400, 500, 600, un po' il piramidale della morte. E poi una bella corsa lenta la domenica, bella lunga. E quindi ci vediamo la settimana prossima. Come sempre, se vi piacciono questi contenuti, se volete seguire i miei allenamenti, se iscrivetevi al canale, mettete mi piace per supportarmi e ci vediamo presto. Ciao e buone corse a tutti!